Gentili telespettatori, buona giornata. Il ministro Roccella è stato di nuovo contestato questa volta agli stati generali della Nalatalità, semplicemente perché voleva esprimere le sue opinioni su diversi temi. Contestazioni quindi e cambio di scaletta agli stati generali della natalità. È un convegno organizzato all'auditorium della conciliazione di Roma. La ministra per la famiglia Roccella, ministra della famiglia, natalità e pari opportunità Eugenia Roccella, non è riuscita purtroppo a fare il suo intervento a causa delle contestazioni arrivate da un gruppo di giovani presenti in sala e ha deciso di lasciare il convegno. E come vi dicevo questa non è la prima volta che succede. In un successivo post fatto sui social, in particolare su Facebook, la ministra Roccella si dice certa che la segretaria del PD Elish Line, tutta la sinistra, gli intellettuali, Scurati, Saviano, la gioia, che gioia, Chiara Valerio, avranno parole inequivocabili di solidarietà nei miei confronti dopo l'atto di censura. Ovviamente fino al momento della mia registrazione non è arrivata una sola parola né da Scurati, né da Saviano, né dalla gioia, né da Valerio, né dalla Schlein, né dal PD, né dalla sinistra, né da Fratoianni, da Bonetti, Bonelli, quel cavolo che è, da nessuno. Ovviamente, come sempre succede in questi casi. Come vi dicevo, le contestazioni sono iniziate quando il ministro ha preso la parola e in platea sono stati alzati dei cartelli che formavano la scritta sul mio corpo decido io. A protestare contro la ministra è stato un gruppo di circa 50 studentesse e studenti universitari provenienti da varie città e aderenti all'assemblea transfemminista di Aracne. Non appena Roccella ha preso la parola sono partiti fischia e urla che hanno interrotto il suo intervento. A quel punto la Roccella, rivolta ai manifestanti, ha preso il microfono e ha detto ragazzi ma noi siamo d'accordo, ma nessuno ha detto che qualcun altro decide sul corpo delle donne, proprio nessuno. Quindi quello che dice il ministro Roccella è assolutamente corretto, nessuno vuole mettere in discussione i diritti acquisiti in Italia. Infatti il ministro dice, sono d'accordo anch'io con voi, nessuno ha detto che qualcun altro decide sul corpo delle donne, non l'ha detto proprio nessuno. Ma sono delle manifestazioni prettamente ideologiche, quindi che non sono aderenti a un fatto reale, a qualcosa di reale, ma sono delle prese di posizione, dei preconcetti, delle manifestazioni pre-costituite prima, pre-confezionate indipendentemente dalla persona, da quello che sta dicendo. Ma la contestazione è proseguita, una delle manifestanti ha parlato brevemente al microfono ma poi è stata interrotta dall'organizzatore Gigi De Palo dicendo questo però è un monologo. Quindi mentre la protesta andava avanti proprio De Palo ha deciso di dare la parola ad altri ospiti sperando anche che questo faccia calmare gli animi. Roccella poi ha abbandonato prima il palco e poi l'auditorium e dice De Palo ci organizzeremo in un altro momento. Poi i giovani manifestanti dopo che hanno fatto la loro esibizione ideologica hanno abbandonato l'auditorium. Solo allora i lavori all'interno della sala sono ripresi. A controllare l'uscita un cordone di polizia. Nessuno ha cacciato nessuno. Loro volevano intervenire per interrompere la Ministra e ottenere visibilità. Una volta ottenuta questa cosa sono andati via perché non gliene fregava assolutamente nulla del dibattito. Quindi il punto era impedire al Ministro di parlare a prescindere. Anche se il Ministro avesse parlato di come si prepara la carbonara in Puglia, a differenza che a Roma, loro avrebbero lo stesso gridato e fischiato. Se la Roccella avesse parlato di che bella giornata era oggi, l'avrebbero lo stesso fischiata e interrotta. Quindi è stata una premeditazione indipendente dal pensiero del Ministro. Il punto è questo. Queste persone che provengono da ambienti di sinistra vengono aizzate, vengono caricate, sono studenti, quindi sono persone che ancora non hanno ben capito com'è la vita, come funziona al mondo. C'è qualcuno che li carica a molla, che li aizza e loro partono ideologicamente contro che cosa? Beh, qui è evidente. Secondo alcuni ambienti di sinistra c'è un governo neofascista, quindi tendente a instaurare una sorta di dittatura o di democratura, comunque una specie di regime, quindi governo neofascista che tenta di instaurare una specie di regime e limiterà, cancellerà i diritti fondamentali come quello sulla legge 194. Quindi in questa ideologia preconcetta e precaricata a molla il Ministro, ovviamente, il Ministro della famiglia, facendo parte di un governo neofascista che sta instaurando un regime, ovviamente deve essere contestato perché questo Ministro fa parte dei cattivi e questo Ministro scrive anche un libro e ha poi delle idee che non sono uguali a quelle di questo gruppo di sinistra, quindi tutto è perfetto per andare lì e impedire al Ministro di parlare qualsiasi cosa avesse da dire. Voleva parlare del ponte sullo stretto di Messina, voleva parlare di qualsiasi cosa, loro sarebbero andati lì a fischiare e a gridare. E lo vedete anche dallo slogan sul mio corpo decido io, realmente nessuno vuole mettere in discussione che le donne possano decidere su di loro. Grazie a tutti e arrivederci a presto.